Mariana può essere qua fuori che ci sta guardando o come può essere da qualche altra parte presente in questo mondo. Non perdono la speranza i genitori adottivi di Mariana Cendron, la diciottene di origini bulgare sparita da paese da più di otto mesi. Sentono che c'è, che soprattutto è viva, forse nel paese d'origine anche se la madre naturale afferma di non saperne nulla, forse in Francia dove la giovane sognava di andare a vivere o ancora in Spagna dove pensava di lavorare come cuoca. Di certo non si sa più nulla dalla sera del 27 febbraio quando Mariana non è arrivata all'appuntamento con il fidanzatino al convitto mafioli di Castelfranco. Sparita anche la bicicletta che usava per raggiungere il vicino golf club dove lavorava e dove è stata vista per l'ultima volta. Oggi in prefettura un vertice per fare il punto della situazione sulle indagini e capire se ci possono essere nuove vie percorribili che diano una risposta a questa scomparsa. Ci sono delle strategie che sono già in corso da tempo per la ricerca di Mariana Cendron, una che è coordinata in via amministrativa dalla prefettura e che proseguirà e un'altra che ovviamente è coordinata dalla procura della repubblica per i profili di polizia giudiziaria. L'ipotesi più probabile ribadita anche al termine del vertice rimane la stessa. L'ipotesi prevalente potrebbe essere quella di un allontanamento volontario della ragazza. Affermazioni che di fatto erano quelle sperate dai genitori esasperati da un incubo che sembra non abbia fine. Avevamo paura che qualcosa si chiudesse invece ci sbagliavamo. Continuano per cui lasciamoli continuare e speriamo anche un po' di fortuna.